Tommaso Stefani, l'Italia medaglia di bronzo all'europeo. Medaglia di bronzo, siamo veramente contentissimi sinceramente perché dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto riuscire a ottenere il nostro principale obiettivo che è stata la qualificazione agli europei, ai mondiali, è stato il top e successivamente anche raggiungere l'obiettivo di una medaglia è stata veramente una bella soddisfazione abbiamo dato tutti il 100% in ogni situazione. Ieri un po' di delusione ma l'Italia è ripartita subito alla grande. Sì, siamo rimasti male dalla sconfitta, hanno giocato veramente bene la Repubblica Ceca e tra l'altro in casa. Sono davvero una bella squadra e noi abbiamo ancora un po' di lavoro da fare, però ci siamo ripresi abbastanza in fretta. Che effetto fa avere una medaglia al collo? È una bellissima sensazione, la nostra soddisfazione più grande è stata il raggiungimento della qualificazione mondiale ma avere anche una medaglia, averla raggiunta con una medaglia al collo è molto bello, fantastico.